Ciao a tutti benvenuti sul mio canale come avete visto nella descrizione oggi ci parliamo di un tappetino mouse avevo bisogno di cambiare il mio vecchio mousepad su uno più grande e ho deciso di fare un po di ricerche su internet su amazon ho trovato questo tappetino grande 90x40 che l'ho trovato a un prezzo super basso trovato a intorno a 11 euro vi lascio il link in descrizione e potete trovare anche in descrizione il mio canale telegram di là sono un sacco di offerte di codici sconti su diversi prodotti andiamo a vedere come ci sta questo tappetino sulla mia scrivania così si presenta il tappetino sulla mia scrivania ha coperto la maggior parte del della scrivania andiamo a vedere come sono fatti i bordi il tappetino ha una misura di 90x40 abbastanza grande allora i bordi sono cuciti abbastanza bene solo qui c'è un po di difetti questo sono le chiusure o apertura delle tappetino dove sono iniziate a cucine parte posteriore è fatto fatta di coma anche scivolo che non scivolò dalla mia scrivania i bordi del tappetino sono stati rifiniti con il filo questo metodo di lavorazione speciale evita lo sfilacciamento sia nella parte superiore e nella parte inferiore del mouse il tappetino è impermeabile dopo il tappetino può essere lavato con l'acqua tepida o anche nella lavatrice a 30-40 grammi io è stato questo tappetino per me ma voi lo potete acquistare anche come un'idea per un ottimo regalo allora questo è stato il tappetino per acquistato grazie a tutti che avete visto questo video ci vediamo in un altro video grazie ciao